Il quarto anno consecutivo che ci consente di fare le nostre milonghe in alcuni dei luoghi più belli della nostra città e ne siamo orgogliosi e felici. Una parte dei nostri allievi del secondo anno principianti, principianti intermedi, quindi sono ragazzi, ragazzi, dei signori che ballano da un paio d'anni, questa sera purtroppo non abbiamo la formazione al completo, però si sono fatti coraggio e si esibiranno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prossimo anno c'è un altro progetto, quindi speriamo di alietarvi con altre coreografie e un altro spettacolo. Ancora due parole velocemente e poi vi lasciamo ballare. questa è l'ultima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.